Si lo so il video in ritardo comunque siamo qui col primo snapshot della 1.17 Finalmente dopo tipo 10 video anche di più finalmente è arrivato lo snapshot quindi adesso inizieremo a vedere che cosa hanno aggiunto Piccolo spoiler non hanno ancora aggiunto tutto quindi possiamo iniziare aprendo l'inventario e vedendo tutta questa roba Allora iniziamo dalle cose più semplici la scorsa volta quando abbiamo parlato della metista ossia di questo blocco Quando abbiamo parlato di questo blocco abbiamo detto che era un blocco che non serviva per creare armature o robe del genere Ma serviva per creare la optifine in minecraft questo che cosa significa bene la optifine in minecraft Eccolo qui abbiamo il cannocchiale che ci serve per zoomare devo dire che mi piace veramente tantissimo Mi chiedo se io abbia i chunk bassi cosa possa vedere cioè carica facciamo una prova Messo i chunk a 2 se faccio così ok non vedo praticamente nulla Avrebbe stato bello se avesse caricato quel chunk però mi rendo conto che forse è impossibile Quindi sì all'outbar delle vanille adesso aggiungeremo anche questo nuovo oggetto che ci servirà per zoomare Che quanto sarà bello zoomare con questo non posso zoomarmi in faccia però sì è carino Potete fare anche non lo so gli rendete la testura invisibile fate che vi mettete la mano in faccia Facendo un piccolo giro del nuovo mondo di minecraft appena generato mi sono accorto che questi cristalli già spawnano Infatti qui sotto ho trovato una caverna di cristalli vedete abbiamo due nuovi blocchi abbiamo il budding amethyst e il blocco di amethyst normale Qui abbiamo tutti i vari cristalli fra quelli che devono ancora crescere e quelli che sono già ben cresciuti come questo Inoltre qui possiamo vedere per l'occhio più attento che ci sono due nuovi blocchi ossia la calcite e la tuff Sono due nuove pietre di minecraft rispettivamente bianca e grigia che sono non lo so la nuova andesite e la nuova diorite Sono molto simili non lo so perché fare gli stone bricks con questa qui non ha senso che abbiamo già gli stone bricks bianchi Quindi lo so magari è una pietra così tanto per Per un momento ho visto questo minerale mi stavo per mettere a piangere poi mi sono ricordato che è lo smeraldo Comunque eccolo qui per esempio qui è spawnato il copper il nuovo minerale di minecraft quello che esisteva da anni e anni sulle mod Ma che è stato appena aggiunto in minecraft il copper è anche delle sfumature verdi che devo dire che non mi dispiacciono Anzi sono molto belle e qui per esempio ce n'è dell'altro quindi un pochettino come il ferro come rarità Anche col copper non sarà possibile creare armature o robe del genere ma sarà possibile cuocerlo se non sbaglio per creare questo copper ingot Ossia questo lingotto di copper io provavo a fare una roba Beh lì è a posto infatti potrete cuocerlo per ottenere questo lingotto Il lingotto che penso serva a craftare tutti i vari blocchi di copper ce ne sono vari modelli per esempio questo e questo Penso sia semplicemente lo stesso blocco rimesso nella crafting table a modi stone stone bricks e robe del genere Comunque c'è questo blocco che a poco a poco si va trasformando magari non così velocemente così da diventare verde Già vi dico che visto che hanno detto che si trasforma in verde e non in blu perché questo qui è blu ragazzi Cioè vi dico già che lo trasformerò con la mia texture pack in verde o almeno di un verde leggermente più acceso Minimo questo e questo blocco forse qui neanche perché vedete c'ha un verde abbastanza acceso ma questo qui sì comunque vedremo Un'altra cosa che è possibile craftare col copper è questo qui il parafulmine che suppongo serva quando uno si va a costruire non lo so una casa di legno E si mette questo qui sul tetto per evitare che non lo so un fulmine te la colpisca e te la distrugga Quindi possiamo fare una prova vediamo costruiamo una casa bellissima un attimo Magari per evitare che questa bellissima casa venga distrutta Uno lo so metti un blocco del genere qui e poi ci metti un parafulmine In questo caso se arriva un fulmine arriva qui che cosa succede? Se io voglio spawnarlo qui vicino non succede niente a che cavolo servi stupido blocco No seriamente devo capire a che serve Forse lo devo alzare leggermente qui provo ad attaccare Se questo qui è più in alto del tetto bloccherà tutti i fulmini infatti ne ho spawnati un botto Non si è acceso nemmeno un cubetto di legno Penso sia questo il funzionamento di questo nuovo item Adesso che avete salvato la vostra bellissima casa mi piace troppo questo nuovo oggetto lo utilizzerò tipo sempre Ovviamente dovete illuminarla all'interno E per questo sono state aggiunte delle nuove candele di tutti i colori Quindi se cercate candela escono le candele di tutti i colori Queste nuove candele ovviamente prendiamo quelle verdi per questa casa Panseranno semplicemente un pochettino come i cetrioli di mare Faranno luce suppongo Quindi mettiamo notte Abbiamo le nostre candele spente che non fanno luce E accendendole col flint and steel Vedete si accenderanno le candele La mia domanda adesso è Candele si consumano? Finiscono prima o poi? Si spengono? Come funziona? Sono come le torce che sono infinite? Spero siano infinite perché se finiscono ci rimangono anche un po' male Queste candele da 4 fanno più luce di una singola candela da 1 magari illuminata così? Assolutamente sì Questo significa che possiamo creare degli ambienti cupi e creepy Senza dover utilizzare quelle madredette torce di redstone Queste qui che ormai utilizziamo da anni per creare del creepy boom Mettici questa No finalmente potremo utilizzare anche delle belle candele Di vari colori così da adattarle all'ambiente Molto bene Devo dire che questa giunta la apprezzo molto eh E l'ultima giunta è questa sacca Che vi giuro non ho capito a cosa serve Non l'ho capito Ci ho provato in tutti i modi A cosa serve a raccogliere qualcosa? Potete utilizzarla così Potete prendere a borsate in faccia le persone Però non ho capito a cosa serve Serve per raccogliere qualcosa? Ci puoi mettere degli oggetti dentro Problema da andare in survival? Non lo so Non lo so Butta questo qui per terra No non lo posso raccogliere Quindi non so seriamente a cosa serve questo oggetto Magari è un oggetto che è stato aggiunto a cui ancora devono dare un utilizzo? Potrebbe essere Per il momento non l'ho ancora capito Sicuramente o adesso ha un funzionamento e non lo trovo Oppure avrò un funzionamento in futuro Perché di certo non aggiungono robe a caso Comunque detto questo vi ho mostrato tutto quello che ho visto del nuovo snapshot della 1.17 E nulla ditemi quello che ne pensate Nulla Fine Fine